E ritorno da te 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 E quindi attraverso l'utilizzo dei migliori materiali sul mercato Quali legni, pelle, camosci Riusciamo a realizzare dei prodotti unici Oltre alle casseforti da incasso Siamo anche specializzati nella realizzazione delle casseforti di lusso Attraverso l'utilizzo di foglie oro, radica, ebano E quindi i migliori materiali sul mercato Oltre 70 anni di storia Quindi i nostri operai hanno delle skills molto avanzate Riusciamo a creare quindi delle opere uniche Prossima slide, grazie Sappiamo molto che Oggigiorno i clienti sono Molto demanding, quindi Vogliono qualcosa di unico Nelle proprie abitazioni Noi riusciamo a soddisfare tutte le richieste dei clienti Essendo noi azienda artigianale Lavoriamo molto con architetti E designer, quindi voi meglio di me Sapete che le richieste dei clienti Oggi sono sempre più demanding Quindi noi operiamo anche tramite progetto Quindi esclusivamente anche sul custom Quindi sulla base di quella che è la richiesta del partner Noi lavoriamo un nuovo progetto E quindi siamo in grado di dare al cliente una soluzione unica Dal punto di vista Prossima slide per favore Dal punto di vista della nostra rete di distribuzione Siamo presenti in oltre 30 paesi Con corner e negozi monomarca In oltre 50 zone del mondo Lavoriamo anche attivamente con partner Come architetti Contractors e designer Ma anche gioiellerie Neanche nell'ambito della moda E nel lusso Ma soprattutto anche nella nautica Grazie Ancora, finito così Già veloce Domanda, applauso Domanda secca Risposta secca per tutti Perché siamo in 15 L'ho detto all'inizio Vorrei provare alla fine della serata A tradurre Cos'è per lei il Made in Italy? Il Made in Italy Io lo sto scoprendo molto adesso Col salone del mobile Anzi, chi non è ancora arrivato Invito tutti a visitarci Nella oltre Stand H25 Il Made in Italy Significa esprimere Il concetto di qualità Noi siamo fortunati A vivere in Italia Perché abbiamo a disposizione Materiali unici A Gresti E a Firenze Noi ci troviamo molto vicini Alla sede centrale Ad esempio di Gucci Prado e Balenciaga E con questi partner Noi condividiamo molti fornitori Quindi anche da questo punto di vista Noi possiamo garantire Ai clienti di tutto il mondo La migliore qualità Quindi dal mio punto di vista Il Made in Italy Significa qualità e passione Grazie Grazie a voi E buon lavoro Prego si accomodi